ciao io sono ombretta e oggi sono qui per approfondire insieme a te il capitolo del tuo libro che parla del frottage del grattage il frottage significa letteralmente in francese sfregamento ed è proprio uno sfregamento quello che si deve fare per mettere in atto questa tecnica con un colore bisogna passare su un foglio sotto il quale è stato posto un materiale che abbia una texture caratteristica per esempio una monetina una foglia una rete qualsiasi cosa noi abbiamo passando un colore su questo foglio vengono pressati i punti in evidenza della texture sottostante che vengono impressi maggiormente sul foglio tutti voi avrete già sicuramente sviluppato la tecnica senza saperlo riportando su una carta l'effigie di una monetina che avete messo appunto sotto il foglio di carta ne sono certa perché da bambini l'abbiamo fatto tutti il frottage però è una tecnica che oltre ad essere usata per riportare così come sono determinate texture che si mettono appunto sotto al foglio può essere usata anche per creare delle composizioni di texture molto belle fino a creare delle vere e proprie opere d'arte per avere un buon frottage bisogna avere dei colori molto grassi quindi potete passare delle matite colorate dei colori a cera dei gessetti dei pastelli o delle matite in graffite molto molto grasse la carta non deve essere troppo pesante della carta comune da risma andrà più che bene o un qualsiasi foglio di carta da disegno leggero e possibilmente anche liscio e poi una gradevolezza della composizione questa dovete crearla voi andando a raccostare delle texture che stiano ben insieme in una composizione artistica armoniosa il tutto poi può essere fissato perché molte volte necessita a seconda dello strumento che avrete utilizzato per disegnare con un fissativo adatto al colore che avrete usato tecnica completamente inversa è il grattage nel frottage si appone colore nel grattage invece si gratta via colore il grattage si fa così si dipinge una tela con un buon strato di colore quindi si mette sotto un qualcosa di texturizzato che pigi contro il retro della tela e poi con una spatola si va a rimuovere quindi a graffiare lo stato pittorico che quindi lascerà scoperte le zone più in evidenza della texture sottostante un disegno che nasce dalla sportazione del colore e non dalla immissione del colore sono tecniche molto semplici da portare avanti che possono rimanere ad uno stato banale ed elementare ma possono anche raggiungere delle forme d'arte eccezionali come puoi vedere per esempio nelle opere di Ernst che ne ha fatto un caposaldo della sua arte se vuoi comporre tra loro diverse texture assicurati che rimangano legate tra loro attraverso l'ausilio dello scotch biadesivo questo farà sì che tutte le forme non si muovano da dove le messe e che tu possa con un solo passaggio di colore riprendere tutta la tua composizione bene spero che i miei suggerimenti ti siano stati utili noi ci rivediamo sempre qui ciao video in collaborazione con la raffaello editori contenuti digitali compresi all'interno del bellissimo libro spazio arte di cui ho curato moltissimi contenuti digitali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti